Il secondo grande esodo di agosto in Veneto Meno problematico del previsto il secondo grande esodo di agosto in Veneto Pensava meglio o peggio? Peggio Perché? Per quello che diceva il telegiornale, le cose devono partire bollino nero Così per i viaggiatori arrivati sulla A4 Venezia Trieste in mattinata Diversamente è andata chi si è messo sulla rotta del mare all'alba Quando a Padova alle 6 del mattino c'erano già oltre 13 km di coda Ed è stato necessario chiudere il passante e dirottare il traffico Sulla vecchia tangenziale di Mestre o sulla nuova A28 per Conegliano Abbiamo dato un sacco di coda all'altezza di Padova, un'oretta di coda Punto più critico per tutta la giornata, quarto d'altino Qui termina il passante, le tre corsie diventano due Si aggiunge anche il flusso delle automobili che arrivano dalla tangenziale Rallentamenti quindi per circa 15 km In alcuni punti la coda è ferma, c'è giusto il tempo di sgranchirsi le gambe Ma poi per fortuna si riparte Dalla parte nostra non abbiamo avuto segnalazione Né tantomeno interventi particolarmente rilevanti a livello di infortunistica stradale Ha sicuramente agevolato lo spostamento turistico E dunque come abbiamo sentito il passante di Mestre è riuscito a reggere l'urto del traffico sostenuto di questa mattina È bastato deviare i veicoli per tre quarti d'ora lungo la vecchia tangenziale di Mestre Per ridare respiro a tutta la rete autostradale Rallentamenti sì ma nessuna coda consistente come ci racconta Stefania Bolza Il passante funziona, regge ed è un'utile opera per i trasferimenti non solo locali ma soprattutto est-ovest Due anni fa prima l'apertura ai caselli di Villa Bona assistevamo ai bivacchi, ai giochi addirittura nel piazzale Con una coda che arrivava da Mestre fino a Padova E infatti le code chilometriche sono state scongiurate Il passante ha retto anche con 6.000 auto in circolazione in una sola ora Il momento più critico verso le 6 e mezza del mattino Quando il lungo serpentone di veicoli rallentati copriva la distanza tra quarto d'altino e l'inizio del passante Per tre quarti d'ora gli automobilisti sono stati deviati lungo la vecchia tangenziale di Mestre Per poi imboccare la A27 in direzione Belluno All'altezza del casello di Conegliano hanno trovato aperto l'allacciamento alla A28 Che ha permesso loro di proseguire verso Portogruaro evitando così i disagi del traffico Certo che di viare dall'altra parte si percorrono 40 km in più Però meglio 40 km in più in sicurezza e viaggiando piuttosto che farsi i rallentamenti Perché non sono code, sono rallentamenti che alla fine fanno anche uscire di senno Grazie 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 Grazie